Se il vaccino è e resta l'arma contro il Covid è importante anche incrementare i punti di somministrazione sul territorio. È frutto di una sinergia lab vaccinale di Sesto Fiorentino inaugurato dal presidente della regione Eugenio Gianni insieme al sindaco di Sesto Lorenzo Falchi. Una tensostruttura che ha preso a funzionare nel parcheggio del centro commerciale in via Petrosa insieme farmacisti, volontari e personale sanitario grazie a un accordo di ASL con Croce Viola e azienda farmacie e servizi. L'hab di Sesto Fiorentino sarà disponibile per prime dosi in open day e terze dosi programmate su tre linee vaccinali. La copertura stimata è di almeno 360 vaccini al giorno. Per ampliare la vaccinazione ecco l'impegno e la sinergia pubblico privato. L'Unicop è sempre stata in questo senso premonitrice di un impegno attraverso l'auto somministrazione dei vaccini. Ricordo che proprio a Villa Ragionieri, oggi Villa Donatello, era iniziata la prima esperienza nella prima campagna di vaccinazione dell'Unicop. Oggi qui attraverso la Croce Viola, ovvero quella pubblica assistenza che in modo incomiabile segue questo territorio molto esteso e molto urbanizzato del comune di Sesto, è proprio nel parcheggio dell'Unicop che è possibile in piena separazione con le funzioni commerciali svolgere una funzione davvero importante. Sono molto contento. Sesto, la nostra città, ha delle percentuali di vaccinazione tra le più alte in Toscana, ma questo non vuol dire che non si debba lavorare per dare occasioni in più con ancora più facilità per vaccinarsi. Quindi questo hub che inauguriamo oggi è un passo in più da questo punto di vista. Voglio ringraziare la Croce Viola e le farmacie comunali di Sesto che si sono messe a disposizione insieme all'ASL e a tutti i soggetti che hanno contribuito a questa realizzazione. Da oggi parte un'occasione in più per vaccinarsi e sappiamo essere fondamentale e importante per fronteggiare la crisi sanitaria nella quale siamo purtroppo ancora immersi.